La decisione era nell'aria e le proteste hanno anticipato l'ufficializzazione Nissan Q dello stabilimento di Barcellona. La notizia arriva l'indomani del piano per una nuova strategia di sviluppo annunciato da Nissan Renault e denunciato dai sindacati come un piano tagliaposti. Una decisione sofferta, ha commentato il presidente Makato, uccida e giustificata dal bilancio in rosso alla chiusura dell'anno fiscale. La prima volta ha commentato negli 11 anni della sua presidenza. Il costruttore giapponese ha sottolineato una perdita netta al 31 marzo di 671 miliardi di yen nell'esercizio 2019-2020 contro i 319 miliardi di utile nell'esercizio precedente. I dipendenti diretti sono 3.000, con l'indotto stando ai sindacati si arriva a 25.000. Chiude anche lo stabilimento indonesiano. Per Barcellona la direzione ha spiegato di aver provato altre via, ma che l'unica percorribile al momento è la chiusura.